La scorsa settimana sono ritornato in onda dopo la pausa, insomma, attorno a Natale, attorno alle feste, con la conferma di quello che ci si aspettava, ovvero la conferma del fatto che il 2023 è stato effettivamente l'anno più caldo mai registrato e prima a confermarlo sono stati i ricercatori di Copernicus, poi sono arrivate ulteriori notizie in questo senso in questi giorni. Ma vogliamo parlarne proprio con chi se ne è occupato all'interno del servizio europeo, appunto Copernicus, e raggiungiamo quindi il ricercatore. Carlo, buon tempo, buongiorno e benvenuto su Play. Buongiorno a voi. Eccoci, vorrei partire da un'immagine che mi ha colpito, una notizia che è emersa in questi giorni, prima di andare a ragionare sui dati. Forse avete visto, avete conosciuto in questi anni quelle strisce colorate, un'idea grafica di un ricercatore Ed Hawkins che rappresenta anno per anno in strisce colorate verticali andando verso un rosso sempre più scuro per indicare gli anni particolarmente caldi. E in questi giorni ha dichiarato un problema, dobbiamo inventarci un nuovo colore, dobbiamo trovare un nuovo colore perché le temperature stanno salendo così tanto che non sappiamo più come rappresentarlo. Insomma, un piccolo elemento che ci fa capire quanto effettivamente stanno crescendo le temperature a livello globale. Ma io voglio fare un piccolo passo indietro e voglio provare a capire insomma che cosa vuol dire l'anno più caldo mai registrato perché un conto è piazzare un termometro in una stanza e capire e vedere quanti gradi ci indica un conto e ragionarci a livello globale. E quindi quando diciamo l'anno più caldo mai registrato insomma di che cosa stiamo parlando? Non so se sia una domanda banale o se invece ci sia qualcosa da approfondire su questo fronte. No, non è una domanda banale affatto perché in realtà come diceva non possiamo prendere un termometro e metterlo per misurare la temperatura del pianeta. È un'operazione abbastanza complicata che richiede un coordinamento internazionale e in questo senso il Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a Medio Termine o ICNWF nel suo acronimo in inglese costruisce su il servizio di cambiamenti climatici di cui poi sono responsabile sulla base dei successi della meteorologia numerica. Cioè il modo in cui noi possiamo calcolare oggi la temperatura della media globale è basato sulla fase iniziale delle previsioni meteorologiche. Per fare una previsione meteorologica numerica quello che si fa è prima di tutto si determina lo stato delle variabili di stato, un visticcio di parole involontario. Quello che voglio dire è che si determina per ogni punto del pianeta qual è il valore della temperatura, dell'umidità, del vento e via dicendo. Questo lo facciamo ogni 30 chilometri circa ogni ora e questo ci descrive lo stato del pianeta. Adesso questo è il punto di partenza per poi integrare le equazioni in modo di merito per fare le previsioni meteorologiche, però lo stesso sistema può essere utilizzato per monitorare il clima. Quindi non è un solo termometro, utilizziamo circa 800 milioni di osservazioni ogni giorno e attraverso queste osservazioni, che in buona parte sono da satellite, possiamo ricostruire il valore di tutte le variabili, per cui possiamo sapere qual era la temperatura più o meno in ogni parte del globo. E mettendo insieme queste informazioni sul periodo storico, la nostra serie temporale inizia nel gennaio del 1940 e segue in interrotta fino a cinque giorni fa, possiamo calcolare le anomalie, le differenze, la temperatura media, cioè prima calcoliamo la temperatura media del pianeta e poi facciamo le differenze tra un periodo e un altro. E così facendo possiamo arrivare a determinare se un anno, una stagione, un mese, una settimana sono state più o meno calde o più chiovose o ventose di un altro periodo dell'anno. Effettivamente quello che è il risultato dalle nostre analisi è che il 2023 è stato l'anno più caldo di sempre, iniziando dal mese di giugno abbiamo avuto una sequenza in interrotta di mesi, giugno, luglio, agosto, settembre, che nel loro momento sono stati i più caldi della storia, cioè nel nostro dataset che inizia negli anni 40 non si sono visti mesi di giugno, di luglio, di agosto, settembre più caldi, tutti gli altri sono stati più freddi. Poi sapendo che il periodo che stiamo vivendo adesso è più caldo del periodo industriale ci sta una differenza che tra la temperatura degli ultimi 50 anni del XIX secolo e la temperatura degli ultimi decenni che è la stessa differenza che si usa poi nel rapporto dell'IPCC, possiamo trasformare queste anomalie di temperatura che abbiamo registrato in differenza rispetto al periodo preindustriale, così arrivare a determinare quanto lontani siamo dal grado e mezzo, dai due gradi, di cui si riferisce l'accordo di Parigi. Chiaro, perché fino ad un certo punto ovviamente non c'erano a disposizione le tecnologie che abbiamo descritto in apertura per calcolare queste temperature, ma retroattivamente si può ricostruire quale fosse il livello. Abbiamo già citato quindi il motivo anche per cui non è stata purtroppo una sorpresa il fatto che il 2023 sia stato l'anno più caldo di sempre perché tra giugno e novembre abbiamo visto ogni mese era il più caldo di sempre, aspettavamo i valori di dicembre ma insomma a quel punto non dico che fosse scontato ma sostanzialmente si trattava di completare i calcoli. Sì, è successo, già a novembre eravamo piuttosto certi che l'anno sarebbe stato l'anno più caldo di sempre un po' anche lo stesso che è successo a luglio. A luglio siamo usciti con la notizia, con il comunicato stampa intorno al 16 mi sembra di luglio dicendo che il luglio sarebbe convertito nel luglio più caldo e nel mese più caldo della storia. Quindi con 15 giorni di anticipo rispetto alla fine del mese perché le anomalie erano talmente gigantesche durante i 15 giorni che sarebbe stato estremamente improbabile vedere un raffreddamento succedere. E lo stesso è successo adesso, a novembre, eravamo prente certi perché a meno che un asteroide non avesse colpito il pianeta o un'eruzione volcanica gigantesca sarebbe stato necessario un evento veramente clamoroso per alterare la traiettoria. L'anomalia era enorme, senza precedenti, per cui è anche un segno di quanto anomalo sia stato il 2023 rispetto a 8 anni. Ecco, vorrevo proprio provare a ragionare su questo e cioè da dove arrivano queste temperature molto alte. Io parlo in questa trasmissione direi quotidianamente di cambiamento climatico in un modo o nell'altro e delle origini del cambiamento climatico. Giusto appena prima di collegarci ragionavo su come anche a livello molto pratico l'approvvigionamento di combustibile fossile sia sempre più complicato nel momento in cui risulta difficile portarlo tramite un canale di Suez. Mi chiedo ma perché non sfruttiamo altre fonti di energia? Però ecco, questo è vero da diverso tempo. Mi chiedevo se ci fosse qualcosa di ulteriore all'interno del 2023. Insomma, la domanda che voglio fare è questo fenomeno di El Nino. Ha influito in maniera significativa oppure qualcosa invece di secondario? Noi sappiamo che El Nino è la fluttuazione climatica più importante a scala planetaria. Per cui se guardiamo la serie temporale della temperatura media globale degli ultimi 30-40-50 anni vediamo che questa ha dei picchi e questi picchi coincidono o sono generalmente appena successivi ai picchi del Nino. Il Nino è una variazione della temperatura superficiale dell'Oceano Pacifico e di solito il picco avviene intorno alla fine dell'anno, per cui ci si aspettava che in un anno del Nino si potessero arrivare a temperature più alte del normale. Adesso però se confrontiamo quello che è stato nel 2023, che ha avuto un Nino moderato, non estremo, non gigantesco, con altri eventi del Nino, come quello del 2016 o del 1998, che sono stati nel loro momento molto forti come il Nino, e confrontiamo le temperature. Abbiamo registrato nel 2023 temperature molto più alte di quelle che abbiamo registrato nel 2016 o nel 1998. E questo non si può spiegare per il Nino. Nino ha aggiunto sicuramente qualcosa, ma il driver principale, il meccanismo che ha permesso al pianeta di arrivare a temperature così elevate è certamente il riscaldamento globale dovuto in buona sostanza all'eccesso di gas effetto serra che ci sono nell'atmosfera. Cioè la fisica del problema dietro ai gas serra è molto solida, a 150 anni circa, per cui non è una novità dell'ultimo momento. Capiamo la spettroscopia, capiamo il trasferimento radiativo dal Sole alla Terra e dalla Terra allo spazio esterno e lo sbilanciamento di energia che esiste, che è basato sull'eccesso di gas serra, è il meccanismo che spiega al momento delle temperature in buona parte. Adesso, se andiamo nel dettaglio, ci sono state nel 2023 delle cose che non abbiamo capito, delle sorprese climatiche e non bisogna negare che esistano queste sorprese perché la scienza non è un dogma. Sappiamo molte cose e le proiezioni climatiche fatte vent'anni fa sono state una buona guida per quello che abbiamo visto e che abbiamo assistito quest'anno. Cioè nonostante la perdita di ghiaccio antartico, per esempio, o il salto di temperatura che abbiamo visto a settembre, o eventi come l'ondata di calore nell'Atlantico a giugno, sono stati eventi che hanno sorpreso molti di scienziati, sono stati più repentini, più violenti di quanto non ci si aspettasse. Per cui c'è ancora ricerca, molta ricerca da fare, però le fondamenta del problema, la sostanza del problema, la fisica che guida a questi cambiamenti è abbastanza chiara e ci fornisce indicazioni che sono utili sulle quali possiamo prendere le decisioni. Sì esatto, sappiamo da dove arriva questo riscaldamento globale, andare a calcolare nel dettaglio qualsiasi possibile conseguenza in qualsiasi luogo, in qualsiasi tempo è invece qualcosa di molto più complicato quando si dice che il clima è un sistema complesso perché è molto complesso, qualcosa che sfugge evidentemente anche soltanto ad un ragionamento di una singola mente e per questo insomma sono necessari strutture come ad esempio quelle di Copernicus e all'interno di Copernicus il Copernicus Climate Change Service C3S di cui è direttore proprio Carlo Bontempo con cui abbiamo appena parlato, mi piacerebbe magari ritrovarci poi in futuro per fare altri ragionamenti rispetto a questi temi, ma intanto la saluto e la ringrazio molto. Buona giornata, alla prossima. Ciao, ciao.